Il maltempo crea allagamenti e frani nel nostro territorio, cresce l'allerta meteo in vista di domani. Omicidio Anastasia, chiesto l'ergastolo per il marito e 10 milioni di risarcimento danni. 35 anni investito da un treno fra Pesaro e Fano, ora è ricoverato in prognosi riservata. Anziano scompare dalla propria casa, ricerche a tappeto in tutta Pesaro. Riqualificazione dell'acquedotto, il quartiere di Soria si prepara ad un anno di cantieri. Benvenuti al nostro telegiornale, oggi è mercoledì 18 settembre e apriamo quest'edizione occupandoci dell'ondata di maltempo che sta colpendo tutte le marche in questi due giorni. Precipitazioni costanti che anche a Pesaro hanno creato diversi episodi di allagamenti, frane, cadute di alberi e infiltrazioni in scuole e strutture pubbliche. Una situazione a rischio peggioramento visto che per domani l'allerta meteo si intensifica da gialla ad arancione. Iniziamo così. Come rilevato dal sopralluogo del sindaco Andrea Biancani, assieme all'assessora Mila Della Dora e ad Enzo Belloni, presidente del Consiglio Comunale, con delega alla protezione civile. Situazione complicata in mattinata anche in zona Torraccia, Villa Caprile e Santa Maria delle Fabrecce, con gli operatori del centro comunale che hanno chiuso temporaneamente al transito parte di strada Montefeltro e di Via Icaro per ripulire le strade che andavano via via riempiendosi di fango. Danni alle strade, disagi nelle scuole superiori, dove le lezioni questa mattina si sono tenute fra secchi, stracci e scope. Particolarmente critica la situazione del campus, dove le infiltrazioni negli edifici hanno creato allagamenti al Marconi, al Mamiani e al Bramante Genga. Completamente allagato e fuori uso anche il sottopassaggio pedonale fra il campus e via Guido d'Arezzo. Infiltrazioni non solo nelle scuole, ma anche in alcune strutture pubbliche. Questa ad esempio è la situazione del padiglione di oncologia dell'ospedale di Muraglia, segnalataci da un nostro telespettatore. Interventi anche per la rimozione di alberi caduti, come avvenuto ad esempio in via Fratelli Rosselli in zona mare. In un settembre in cui è partita la maxioperazione di pulizia delle caditoie, non sono mancati i tombini che hanno faticato a defluire il debordante carico d'acqua, così come sono state diverse le segnalazioni di garage e semi interrati allagati. Ora si incrociano le dita per la giornata di domani, con tanto di stato d'allerta per pronto intervento della macchina operativa di comune, protezione civile, polizia locale, vigili del fuoco e operatori di marche multiservizi. Ed ora ci spostiamo al Tribunale di Pesaro, dove questa mattina c'è stata una nuova udienza carico di Mustafa Alashri, 43 anni, egiziano, accusato dell'omicidio volontario e occultamento di cadavere, della giovane moglie ucraina, Anastasia, avvenuto a Fano nel novembre 2022. Oggi il PM ha formalizzato la richiesta del gastolo e la famiglia di Anastasia ha chiesto un risarcimento di 10 milioni di euro. Continua il processo per il femminicidio di Anastasia, la donna di origine ucraina, 23enne, uccisa con 29 coltellate dal marito Mustafa Alashri nella notte del 13 novembre 2022. Per lui il PM ha chiesto al giudice l'ergastolo, mentre la parte civile, rappresentante del figlio di due anni e la famiglia di Anastasia, hanno chiesto 10 milioni di risarcimento, specificando che quest'ultima rappresenta una cifra simbolica. Noi ci siamo associati alle richieste del pubblico ministero, ovviamente abbiamo richiesto poi un risarcimento del danno. La cifra è simbolica, ci rendiamo conto che non gli verrà mai risarcita una cifra del genere, ma è proprio per calzare sulla gravità degli effetti della vicenda sul minore. Come dicevo, ha perso la madre e il padre in un solo atto, quindi questo non è risarcibile, per dare proprio un peso alla vicenda, un peso anche morale. L'ergastolo riteniamo che sia giusto e che possa essere combinato, in quanto le aggravanti contestate sono state provate, c'è la piena prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, di tutti i delitti contestati, quindi per tutti i capi di imputazione, pertanto riteniamo che possa essere combinata come pena. La difesa invece non concorda con le richieste ed esporrà la sua discussione nella data del 15 ottobre, mentre la data della sentenza invece è stata fissata per il 18 ottobre. Io rispetto il ruolo del pubblico ministero e le richieste del pubblico ministero vanno rispettate, ma ritengo che non siano confacenti al caso che stiamo trattando, per una serie di motivi che poi la gente illustre nella mia discussione finale. Per me è solamente sottolineare che il pubblico ministero non ha ritenuto richiedere appunto le attenzioni generiche, pur avendo il mio assistito permesso successivamente appunto non solo il ritrovamento del corpo, ma anche la ricostruzione di tutto quello che era accaduto, dando la sua versione dei fatti. La cosa che mi ha lasciato solamente un pochettino stupito è che l'attività difensiva del mio assistito durante la fase di indagio, ossia quella di rendere una propria versione dei fatti, è diventata una prova diabolica dei suoi confronti secondo il pubblico ministero, come se una persona che rende una propria versione dei fatti debba poi subire la ritorsione di quanto detto, che dal punto di vista diciamo prettamente normativo è così nel caso in cui ci sono delle discrasie, ma è anche un diritto dell'imputato appunto a dare la propria versione dei fatti ed è un dovere da parte del pubblico ministero verificare l'attendibilità o meno di quanto dichiarato dall'imputato. Invece qua sembra che l'imputato, quando detto all'imputato sia effettivamente tutto inventato e tutto non riscontato. Poi ci sono degli aspetti che la gente affronterà nella discussione e ritengo che comunque la ricostruzione della procura non sia una ricostruzione aderente alla realtà dei fatti. Continuiamo con la cronaca perché attorno alle 3.30 di questa notte un uomo di 35 anni è stato urtato di striscio da un treno in transito sulla linea ferroviaria fra Fano e Pesaro. L'investimento non è stato mortale e secondo la ricostruzione delle forze dell'ordine l'uomo si trovava sui binari al momento del passaggio del treno. Il personale ferroviario ha fermato il treno per consentire l'intervento delle squadre di soccorso medico. La circolazione ferroviaria è rimasta interrotta per tre ore e solo dopo le 7 di mattina i treni sulla linea Ancona-Bologna hanno ripreso a circolare accumulando ritardi anche di 180 minuti. Ed ora cambiamo argomento. Da diverse ore a Pesaro si sta cercando una persona scomparsa. Il suo nome è Mario Bruscolini, 89 anni e l'avviso di ricerca è stato notificato alla questura e diffuso via social dai familiari attraverso queste fotografie. A quanto riferiscono i familiari, da mesi l'anziano non usciva di casa da solo e di primo mattino avrebbe fatto perdere le sue tracce uscendo dalla sua abitazione in strada sotto le selve, zona 5 Torri. L'uomo che ha problemi all'udito avrebbe riferito di volersi recare in via Solferino presso il bar del figlio ma probabilmente ha perso l'orientamento. Al momento dell'uscita di casa indossava giubbotto blu e pantaloni marroni. Potrebbe indossare un cappello e avere con sé un ombrello fucsia. Chiunque avesse informazioni è invitato a contattare la questura di Pesaro o i familiari al numero 328 75 41 43 9. Ripeto 328 75 41 43 9. E c'è molta attesa per la conferenza dei servizi prevista domani in provincia di Pesaro Urbino che potrebbe portare al no definitivo all'autorizzazione del progetto della discarica di rifiuti speciali da realizzare nel territorio petrianese di Riceci. Dopo un lungo tiremolla attendono dunque una svolta le tante associazioni ambientaliste che domani a partire dalle 9 accompagneranno la riunione con un presidio all'esterno dell'ente di Via Gramsci. Ieri c'è stata una partecipata assemblea fra amministrazione comunale di Pesaro Marche Multiservizi e alcuni residenti di Soria per confrontarsi sull'avvio del maxicantiere di rifacimento delle condotte idriche e del gas che coinvolgerà il quartiere per circa un anno. Vediamo. Si apprestano ad iniziare i lavori di Marche Multiservizi per la realizzazione di una nuova rete idrica e del gas nello quartiere di Soria per risolvere il problema delle frequenti rotture che interessano la zona e potenziare le condotte di quest'ultima. Sono varie le vie del quartiere interessate dai lavori che dovrebbero trovare conclusione entro il giugno del 2025. Abbiamo comunicato con grande soddisfazione come è immaginabile questo finanziamento che l'azienda insieme a Lato è riuscita a tenere di fondi PNRR parliamo di 20 milioni di contributo per quasi 30 milioni di progetto però dopo la fase di annunci poi bisogna mettere a terra come si dice anzi in questo caso mi permetto una battuta sottoterra perché parliamo della rete idrica e in questo caso particolare in alcune aree anche della rete del gas per cui dalla fase di euforia si parte a quella del lavoro vero e proprio e di conseguenza oggi abbiamo inteso dare un'informativa ai cittadini perché crediamo che sia molto importante l'intervento che andremo a realizzare che però prevede comunque una serie di disagi che si creeranno che cercheremo però di minimizzare e oggi la riunione aveva proprio questo obiettivo spiegare quello che andremo a fare cercare la massima collaborazione da parte delle aziende dei cittadini del quartiere per poter realizzare quest'opera strategica non solo per Pesaro ma per tutta la provincia che ci consente insomma di essere più performanti in merito alle perdite idriche quel tema delle perdite è un tema insomma che è sulla bocca sempre di tutti spesso si parla anche a sproposito perché si tirano in ballo delle cifre delle perdite della rete che non sono quelle reali e soprattutto non tengono conto della lunghezza della rete Marche Multiservizi gestisce oltre 5.000 km di rete di conseguenza Arera ci certifica come una delle società più performanti dal punto di vista della gestione della rete idrica agire appunto sulla riduzione delle perdite della rete è fondamentale perché l'acqua è una risorsa preziosa l'abbiamo visto quest'estate e lo vedremo anche purtroppo ahimè nelle prossime di conseguenza andare ad agire è fondamentale la prossima settimana partono i cantieri di Marche Multiservizi nel quartiere di Soria e in via Ponchielli un investimento importante per la nostra città e per tutta la provincia sono fondi del PNRR lavori che inizieranno a fine settembre fino a maggio non saranno lavori continui saranno lavori che verranno spezzettati e quindi chiediamo di pazientare al quartiere di Soria e i residenti di via Ponchielli ma è una grande opportunità un'opportunità storica per rifare la rete idrica e quella del gas per servizi migliori più efficienti e di qualità si chiude un'estate di controlli intensificati per la guardia di finanza di Pesaro fra contrasto al lavoro nero spaccio di droga e traffico di merci contraffatte vediamo il bilancio tracciato dalle fiamme gialle in questo prossimo servizio si chiude un'estate di controlli intensificati per la guardia di finanza di Pesaro Urbino che archivia un trimestre che l'ha vista impegnata a presidio del territorio con l'impiego di 390 pattuglie che hanno portato all'identificazione di 2.800 persone di cui una tratta in arresto in quanto evasa dagli arresti domiciliari sono state 135 le violazioni al codice della strada elevate e 77 i grammi di sostanze stupefacenti sequestrati anche grazie all'ausilio di unità cinofile che hanno portato alla segnalazione amministrativa alla prefettura di 24 persone numerosi gli esercizi controllati al fine di verificare il rispetto della normativa sul lavoro sommerso individuati 17 lavoratori nero e 8 lavoratori irregolari nell'ambito dei controlli delle attività commerciali sono state verificate il rispetto della normativa in maniera di canne d'abbonamento speciale RAI e la corretta emissione telematica degli scontrini ricevute fiscali con il riscontro di 90 omesse memorizzazioni dei corrispettivi sono stati anche sequestrati 3.000 prodotti commerciali reputati non sicuri e 629 articoli contraffatti col deferimento di tre soggetti all'autorità giudiziaria per le ipotesi di reato in materia l'azienda sanitaria territoriale di Pesaro Urbino ha confermato che ad oggi sono 36 casi di contagio da febbre e dengue registrati nelle marche 34 di questi sono a Fano uno a Cartoceto e uno a San Costanzo 10 sono i pazienti che sono stati ricoverati nessuno dei quali in gravi condizioni attualmente non si segnalano nuovi casi ma sono stati sottoposti a test altri 29 soggetti segnalati dai medici di medicina generale con sintomi compatibili che risultano guariti o in fase di guarigione Andrea Pierotti è stato confermato alla guida di Marche Multiservizi l'annuncio è arrivato dal sindaco di Pesaro Andrea Biancani al termine della riunione organizzativa fissata in previsione dell'incontro di domani indetto dall'assessore regionale Stefano Aguzzi che affronterà insieme ai sindaci della provincia di Pesaro Urbino il tema relativo al piano dei rifiuti regionale il mondo dei cappuccini tra storia società arte e architettura e questo il titolo del convegno che si svolgerà da domani al 21 settembre all'auditorium di Palazzo Montani Antaldi di Pesaro si tratta di un'iniziativa sostenuta dalla regione Marche per celebrare il 500esimo anniversario della fondazione dell'ordine dei frati minori il convegno sarà l'occasione per approfondire quanto la presenza dei cappuccini abbia influito nella società e nei centri urbani in termini di manufatti artistici architettonici artigianali editoriali e gastronomici oltre che come modello di vita grazie alle vite esemplari di molti suoi aderenti nei giorni scorsi una delegazione di 100 canadesi con origini marchigiane ha fatto tappa a Pesaro e Pergola in occasione del progetto Migrazioni Sonore progetto che intende creare un legame di memoria fra le popolazioni emigrate e le loro radici italiane 100 italodiscendenti canadesi hanno fatto tappa nella provincia pesarese riannodando i rapporti con le loro origini marchigiane riscoprendo luoghi sapori tradizioni e cultura delle proprie radici una spedizione costruita sul progetto Migrazioni Sonore che si è focalizzato su Pergola dove nei giorni scorsi è arrivata una nutrita delegazione del Quebec replicando quanto avvenuto a Frontone la settimana precedente con un analogo gruppo di italodiscendenti belgi Migrazioni Sonore è un progetto di internazionalizzazione della cultura italiana e da tanti anni frequente paesi francofoni dell'Europa e del Nord America un progetto che si è concretizzato a Pergola dopo una tappa a Pesaro capitale della cultura con tanto di presentazione ai musei civici di un'iniziativa volta a valorizzare la memoria dei fenomeni migratori focus della visita è stata Pergola con il suo museo dei bronzi dorati e il teatro Angel dal Foco in un percorso sostenuto da artisti come Marco Cagliari e ambasciatori del gusto come Hotel Lorenzi e lo chef stellato Stefano Ciotti oltre alla presenza di tipicità quali tartufo pregiato di Pergola visciolato visner e maccheroncini di Campofilone tutta una serie di soggetti che ci aiuteranno a far rivivere la radice marchigiana a queste persone che sono italofile in tanti casi imparentate o amiche di italiani e quindi curiose di scoprire e di approfondire la cultura italiana ma in altri casi sono proprio discendenti che tornano a rivedere la loro terra l'Italia e a cercare di ristabilire un rapporto con la contemporaneità e non limitarsi al ricordo di quando dall'Italia sono partiti o addirittura quando erano partiti i loro nonni e i loro padri genitori miei pesaresi mia mamma Montemaggior al Metauro mio padre Calcinelli di Saltara allora oggi sono tornato alle mie radici e sono fiero di essere qui a Pesaro per questo evento molto importante questo legame che proviamo di fare con Montreal e noi nella nostra comunità a Montreal abbiamo mantenuto la nostra cultura la nostra lingua le nostre tradizioni oggi siamo qui per creare questo ponte con Italia Marche e Casa d'Italia per gli italo-discendenti italiani marchigiani in Canada allora questi sono progetti che uniranno i due paesi per ritrovare le proprie radici per ritornare nei luoghi inattivi dei genitori e dei nonni anche per quegli itali o canadesi che non parlano più di italiano che non hanno più un legame con nessuno perché cosa vuoi quando esploriscono i nonni e i genitori si sente il desiderio di ritornare nella propria terra il comune il comune di Vallefoglia dà il suo personale benvenuto all'autunno con quattro giorni dedicati alla Sagra della Polenta che da domani taglia il traguardo della sua ventesima edizione taglia il traguardo della ventesima edizione la Sagra della Polenta di Montecchio che dal 19 al 22 settembre dà il suo benvenuto all'autunno con quattro giorni di stand gastronomici e intrattenimento in piazza della Repubblica la prima sera la facciamo al sugo di pesce che è una novità possiamo dire perché sono pochissimi anni due o tre anni che la facciamo poi abbiamo la polenta con salsiccia e funghi la polenta con fagioli e salsiccia e la polenta bianca perché delle volte con i bambini preferiscono il bianco ci mettiamo un po' di olio un po' di formaggio e loro sono contenti così ogni sera c'è uno spettacolo dal giovedì c'è una compagnia teatrale il venerdì c'è un gruppo con un dj sabato e domenica ci sono balli da balera valser con due gruppi importanti come Fabrizio e Riccardi e poi dopo ci sono i giochi per i bambini nella zona limitrofa lì vicino al campo al campo di gioco e poi sabato e domenica dal pomeriggio iniziano i mercatini sono vent'anni che c'è questa iniziativa e la Proloco che noi ringraziamo perché è un momento in cui diciamo si socializza si mangia bene si sta insieme e ovviamente è un impegno importante di tutti i volontari che danno una mano ed è una delle tante tantissime iniziative che su Vallefoglia ci sono dall'inizio dell'anno alla fine dell'anno e allora davvero complimenti al comune di Vallefoglia per la celebrazione di questi vent'anni della sagra della Polenta il nostro staff le nostre telecamere saranno presenti sul posto quindi sabato a Vallefoglia a partire dalle ore 19 e invece a voi pubblico vi consiglio di restare collegati su Rossini TV perché andiamo a vedere la programmazione intanto tra pochissimo dopo questa prima edizione del nostro telegiornale vi andremo a raccontare nel nostro spazio dedicato a Pesaro 20 e 24 del Hotel Labyrinth l'arte che nasce fra i corridoi degli alberghi pesaresi una cosa molto curiosa che fa parte di questo anno speciale e poi questa sera alle ore 21 e 20 andiamo a conoscere il nuovo sindaco di Montellabate nel nostro programma amministrando sindaco che è stato appena eletto lui si chiama Roberto Rossi quindi non perdetevi l'appuntamento e poi domani vi aspetto con la nostra rassegna stampa l'invito è sempre quello di scriverci su Whatsapp le vostre segnalazioni ma anche mandarci foto e video soprattutto in questi giorni di allerta meteo diventate i nostri reporter perché è un aiuto fondamentale che date alla nostra redazione e allora io vi aspetto domani con la rassegna stampa invece il telegiornale torna domani alle 19 e 30 buona serata grazie a tutti